salve ragazzi e ragazzi oggi vi ho portato un multistar e un mamma non mamma il multistar me l'ha richiesto silvano metrangolo che lo saluto e lo ringrazio spero che il video vi piaccia se è così mettete un like un like e iscrivetevi al mio canale adesso iniziamo a grattare e iniziamo a grattare iniziamo con il mamma non mamma vediamo un attimino se un grattino fortunato iniziamo che non si veda sì penso di sì ok inizia la nota allora adesso gratto il simbolo bonus lo vediamo cos'è la roulotte allora arcobaleno occhiali tamburello cuori non si vedono proprio ecco il primo cuore colomba sole il secondo cuore la mano la scarpa terzo cuore però ce ne vogliono altre due perché si è vincente fiore niente da fare farfalla e fotografia niente da fare controlliamo bene niente biglietto perdente adesso facciamo molti star richiesto da silvano metrangolo e lo dedico a lui allora qui bisogna grattare i numeri vincenti e poi grattate sui nostri numeri vediamo un attimino 27 41 53 e 43 vediamo iniziamo 39 che non abbiamo 46 non abbiamo 52 non si vede c'è 53 45 e 56 e quindi non sono usciti adesso grattiamo la stella bonus se dovesse uscire il numero vinciamo tutti i premi dell'aria dell'aria gioco chiaramente numero 17 e non c'è allora seconda giocata 25 20 e 34 vediamo un attimino 22 42 18 niente e 50 niente quindi adesso questa è la bonus 55 che non abbiamo mettiamo ancora 38 e 54 11 44 ci abbiamo 54 che ci fosse invece non c'è e il 28 e invece abbiamo il 38 stella bonus 29 niente questo biglietto è perdente quindi controlliamo bene perdente silvano metrangolo mi dispiace le multistar è perdente comunque ti ringrazio e alla prossima salve a tutti spero che il video vi sia piaciuto e se avete comunque altre richieste potete comunque scrivere sotto i commenti e io cercherò di potervi accontentare va bene un saluto ciao ciao